ciao winxers questo è un video di introduzione a fate the winx saga il nuovissimo live action di netflix sulle nostre winx che uscirà prossimamente le riprese sono già terminate in irlanda tra boschi rigogliosi e paesaggi suggestivi saranno ambientate le nuove avventure delle nostre amiche winx ecco il cast principale la nostra amata bloom sarà interpretata dalla bellissima hebigel cohen già star grazie alla serie netflix le terrificanti avventure di sabrina che ne pensate io la trovo perfetta musa la nostra fata della musica sarà interpretata da elise aisha applebaum nonostante non ci sia proprio una grande somiglianza tra le due credo che sia comunque molto carina il ruolo di stella sarà interpretato da hannah van der west mi sembra già una ragazza frizzante ed allegra perfetta per il suo personaggio la fata dei fluidi aisha sarà interpretata da precious mustafa chissà se sarà grintosa attiva ed energica come la aisha del cartone animato elliot salt interpreterà terra non è ancora ben chiaro se questo personaggio sarà un mix tra le fate flora e tecna aspetto con ansia di vedere la serie per scoprirlo l'attrice sedis overall interpreterà bellatrix voci di corridoio dicono che sarà un mix tra i personaggi delle tricks voi che ne pensate passiamo adesso ai ragazzi il nostro sky sarà interpretato da danny griffin folta chiama bionda e occhi azzurri io direi che la somiglianza c'è e come freddy thorpe sarà nel ruolo di riven io sono davvero curioso di scoprire come sarà la sua relazione con musa in questa serie inoltre jacob dudman reciterà nel ruolo di sam e theo graham nel ruolo di dane chissà chi saranno questi personaggi fatemi sapere nei commenti le vostre aspettative su questa serie cosa vorreste vedere e cosa ne pensate degli attori scelti ciao winxers siamo arrivati alla fine del video queste due immagini sembrano uguali ma non lo sono ci sono ben quattro piccole differenze riuscite ad individuarle scrivetelo con un commento bene winxers anche questo video è finito se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace se volete vedere altri video di winx revolution scegliete una delle due anteprime da kiko è tutto e vi do appuntamento al prossimo video